Tre punti chiave per andare avanti. Il virus. Sul virus si dicono tante cose, soprattutto si dà colpa alle varianti, le varianti che sarebbero subentrate. In realtà il virus sta raggiungendo il picco, il picco lo raggiungerà alla fine di marzo, così come è stato l'anno scorso, perché bisogna guardare al passato per affrontare il futuro e per sapere esattamente come muoversi. Infatti l'anno scorso il picco del virus l'abbiamo raggiunto proprio a marzo, i primi di aprile, dopo Pasqua, così è cominciato a diluirsi, andare sempre meno, a sperdere sempre di più la sua virulenza, fino ad arrivare poi all'estate. E così sarà anche quest'anno, aiutati soprattutto dal vaccino. Io penso che sarà così per un paio d'anni, anche l'anno prossimo, perché l'onda dovrà diminuire sempre di più. Quindi io credo che il picco si raggiungerà a marzo. E poi aiutati anche dalle chiusure, perché sono importanti le chiusure, almeno 15 giorni, aiutati dalle chiusure e dal vaccino, quest'anno sicuramente si raggiungerà un benessere più consolidato, più di quello dell'anno scorso, che quello dell'anno scorso in estate era un finto benessere, perché poi abbiamo visto che in autunno è ricominciato, è ricominciato così come ricomincia tutti gli anni l'influenza. Però quest'anno appunto siamo al secondo picco, al secondo picco annuale, che si raggiungerà appunto a marzo. Varianti, mica varianti, sono tutte chiacchiere secondo me. Questo è l'andamento naturale del virus, del Covid, che è poi l'andamento naturale di tutte le altre pandemie, come per esempio anche l'influenza, l'influenza alla spagnola, e poi anche tante altre pandemie che poi sono state addirittura debellate. E quindi il virus avrà un suo andamento naturale. Poi c'è il punto Zingaretti. Zingaretti ha lasciato. Ha lasciato per che cosa? Ha lasciato per lasciare il posto a Renzi, perché Renzi dopo aver spaccato il PD e dopo aver spaccato il governo, adesso si trova a dover ricomporre i cocci. Con l'uscita di Zingaretti ricomporrà ai cocci tutto quello che aveva spaccato, perché Zingaretti gli ha lasciato il gentiluomo della sinistra, diciamolo, Luca Zingaretti, un uomo così per bene, difficile, così come lo era anche Conti. Chissà perché le persone per bene, le persone che hanno un certo stile da gentiluomini della politica, vengono fatti fuori. Subentrerà Renzi, il quale è sicuramente quello che ha favorito l'entrata di Draghi, a sostituire Conte. Draghi va benissimo, d'accordo, però sta facendo le stesse cose. Per esempio con il virus sta facendo esattamente quello che aveva fatto Conti, cioè le chiusure, insomma, si starà attivando per i vaccini, cose che faceva anche Conti, con la differenza che Conte magari è un pochino presenzialista, ma questo perché voleva abbracciare, voleva entrare nel cuore delle persone, voleva, insomma, era partecipativo. Invece Draghi è un pochino più freddo, un pochino più tecnico, teorico, e insomma è un uomo che anche lui ha le spalle larghe e sa fare il suo mestiere. Però Renzi è stato l'artefice appunto della spaccatura del governo e adesso cosa vorrà fare? Raccogliere i cocci e pretenderà di diventare, di ricomporre, di ricomporre il partito democratico con l'Italia Viva. Questo è quanto, questo è il punto, è punto e lui diventerà il capo, vorrà autonominarsi capo di questo partito democratico, e questo è quanto, punto, è capo, è capo Azzo. E poi c'è Sanremo, Sanremo anche qui si parla molto, perché Sanremo c'è stato un calo di ascolti, un calo molto forte, beh, rispetto all'anno scorso, certo, manca il pubblico, poi ci sono dei problemi, però il problema vero sta nell'organizzazione. Che cos'è che manca Sanremo per fare gli ascolti? Mancano gli ospiti importanti, gli ospiti a livello internazionale, d'accordo, Ibrahimovic è un ospite importante, però, insomma, non buca lo schermo come tanti altri ospiti internazionali che farebbero sicuramente ascolti. Uno di questi, per esempio, è Kanyaman, Kanyaman, il quale, chissà perché, ad Amadeus non è venuto in mente di invitare, sicuramente farebbe il pieno di ascolti, farebbe impennare la curva, e quindi io credo che Kanyaman con Kanyaman si risolverebbe il problema degli ascolti di Sanremo. Infatti Kanyaman sarà ospite a Dio che Dio ci aiuti la prossima fiction, la nuova stagione di Elena Sofia Ricci, che farà l'ospite d'onore, e sicuramente farà un pieno di ascolti, guardare per credere. Questo è quanto.